Gli italiani tornano a spendere, complici forse i saldi e le insegne di sconti che brulicano in città dallo scorso primo luglio. A dirlo una ricerca dell'Istat pubblicata ieri che evidenza un miglioramento dell'1% rispetto al 2015, anche se mediamente spendiamo ancora 100 euro in meno rispetto al 2011. Una distinzione però va fatta in base al ruolo che una persona ricopre all'interno dell'azienda. In Italia la forbice tra operai e dirigenti si allarga sempre di più, ad oggi un dirigente ha una capacità di spesa media di 5 volte superiore rispetto ad un operaio, sembra comunque che il peggio sia passato. Abbiamo comprato qualcosa? Sì, ci sono offerte, stanno andando, dipende dai giorni. Hai trovato qualcosa? Oggi no, però gli altri giorni di saldi? Sì, sono delle belle offerte. Cosa ha comprato? Le gonne, quello che mi interessa e i pantaloncini. Il primo giorno. Come stanno andando? Bene, dai. Spendere però non sempre corrisponde ad approfittare degli sconti stagionali. Lo sanno bene i veronesi che ad una settimana dall'inizio dei saldi si dicono scettici nei confronti degli sconti. Non ho comprato ma non in saldi. No, perché ho già fatto e sinceramente trovo che con i saldi non sempre sia... diciamo sì, cioè sì, sarebbe conveniente se trovi le occasioni giuste, ma non sempre le trovi, perché non trovi le taglie, non trovi magari il modello, dunque no, di solito non approfitto.